La gestione della luce in un video o in una fotografia può fare un'enorme differenza tra una scena e una wow e oggi vediamo insieme come passare da una situazione come questa in cui non ho curato minimamente la fotografia e sto utilizzando solo le luci presenti all'interno della stanza e la finestra alla mia sinistra a questa in cui l'unica cosa che è cambiata è come sto illuminando la scena e prima che qualcuno di voi chiuda il video pensando io mica faccio video per youtube vero ma tenete conto di una cosa imparare a gestire la luce e la fotografia di una scena e capire il perché di determinate scelte come mai le luci sono state posizionate in un certo modo e così via vi può tornare utile in tantissime situazioni sia in foto oltre che in video e questo indipendentemente da quello che utilizzate per scattare o per girare non importa che voi utilizzate uno smartphone una reflex una mirrorless o una macchina da presa cinematografica da decine di migliaia di euro come una Harry Alexa senza una buona gestione della luce non riuscirete mai a tirare fuori un'immagine di buona qualità detto questo torniamo alla situazione di luce brutta e vediamo passo passo come sono andato a intervenire per costruire l'illuminazione della scena che avete visto poco fa per prima cosa dobbiamo partire da una situazione pulita quindi iniziamo eliminando la luce ambiente tirando giù le tapparelle o tirando le tende se non avete le tapparelle e spegnendo tutte le luci presenti nella stanza tranne quelle che compariranno all'interno dell'inquadratura quindi nel mio caso lascerò la lampada che vedete alle mie spalle accesa il motivo per cui ho spento tutto tranne questa lampada è che questa luce che sarà presente anche nella mia scena finale non è regolabile e quindi per evitare quello che vedete in questo momento e cioè una lampada completamente bruciata vado subito a intervenire sui parametri della fotocamera per regolare l'esposizione in modo appunto che non sia completamente sovraesposta a questo punto possiamo aggiungere la luce chiave che è la luce principale che illumina il soggetto un buon punto di partenza quando si vogliono illuminare delle persone è posizionare la luce principale con un angolo di circa 45 gradi rispetto alla fotocamera e inclinata leggermente dall'alto verso il basso questo perché per cercare di replicare la luce naturale che normalmente arriva appunto dall'alto verso il basso in questo modo una volta regolata l'intensità della luce si andrà a creare una parte del volto più illuminata e una leggermente più scura in ombra e questo aiuta a dare tridimensionalità per quanto riguarda la scelta del tipo di luce diciamo che dipende sia dallo spazio che avete a disposizione sia dal risultato che volete ottenere nel mio caso non avendo a disposizione tanto spazio perché in questa stanza la distanza tra la parete di fronte a me e quelle le mie spalle è di circa 2 metri e mezzo beh non posso certo usare il mega softbox da 120 centimetri che utilizzo in studio quindi quello che sono andato a fare è montare sulla scrivania tramite uno stativo di quelli che si agganciano al piano del tavolo un piccolo faretto led il Wii Lite Ninja 200 che vi avevo recensito tempo fa trovate la recensione qua sopra e sotto in descrizione su cui ho montato il suo softbox da 60 centimetri circolare questo come vi ho spiegato un paio di settimane fa nel video sulla durezza della luce grazie alla sua dimensione effettiva relativamente grande rispetto a me aiuta a creare una luce sufficientemente morbida e in più essendo circolare va anche a creare una catch light rotonda all'interno dell'occhio cosa che a me piace particolarmente questo naturalmente è solo un esempio legato al caso particolare di poco spazio in cui mi trovo io ma soluzioni altrettanto valide potrebbero essere ad esempio quei softbox dotati di lampada che si trovano su Amazon per 30-40 euro oppure dei pannelli led quadrati, una ring light, un faretto davanti al quale andare a montare un ombrello e così via insomma scegliete la soluzione più adatta alle vostre esigenze poi qua sotto in descrizione magari vi lascerò qualche alternativa interessante bene ora che la luce principale è in posizione andiamo ad aggiungere una seconda luce che farà in parte da luce di riempimento illuminando la parte in ombra del mio volto e in parte da luce di bordo, luce di separazione per aiutarmi a staccarmi maggiormente rispetto allo sfondo e dando quindi maggiore profondità alla scena qui come sorgente luminosa utilizzerò questo piccolo tubo led rgb che mi ha inviato in prova we light si chiama k21 e ve lo avevo già mostrato qualche settimana fa in un unboxing sul mio profilo instagram dopo averlo utilizzato per bene nell'ultimo periodo vi posso dire che è davvero un bello oggettino intanto ha una batteria integrata da 2500 mAh che si ricarica tramite la porta usb di tipo c che si trova sul retro nella parte superiore e inferiore ha una filettatura per il treppiede con cui potete montarlo appunto su un treppiede oppure come farò io tra poco su uno stativo e fa sia una luce bianca con temperatura colore regolabile oltre che essendo rgb anche una luce colorata e la cosa super interessante è che si può comandare molto facilmente tramite un'app tornando a noi per quanto riguarda il posizionamento di solito la luce di separazione si mette in posizione diametralmente opposta rispetto alla luce principale quindi adesso l'andrò a montare alle mie spalle alla destra e tra l'altro dovendo fare da luce di separazione inclinerò anche questa luce dall'alto verso il basso in modo che vada a illuminarmi la parte superiore della testa, la spalla e questa parte del corpo per aiutarmi appunto a venire staccato dallo sfondo e già così con la luce di separazione accesa e in posizione abbiamo un buon risultato sono staccato tra virgolette molto meglio dallo sfondo rispetto a prima ma non finisce qui perché possiamo fare anche un piccolo passettino in più cioè quello che in inglese chiamano motivate the light che in italiano possiamo tradurre anche se non suona tanto bene come giustificare la luce, dare un senso alla luce che cosa vuol dire in pratica? beh che avendo alle mie spalle questa lampada che fa una luce calda posso impostare la temperatura colore della mia luce di separazione in modo che faccia anch'essa una luce calda che non sia alla stessa temperatura colore della luce principale come se a illuminarmi questa parte del volto fosse la lampada stessa e non la luce di separazione che ho posizionato se lo vado a fare al volo tramite l'app guardate com'è cambiato l'effetto sul mio volto rispetto a prima ora che sono passato dai 5500 kelvin che avevo impostato originariamente sulla luce di separazione la stessa temperatura colore della luce principale ai 2500 kelvin di ora una luce molto calda che di fatto è molto vicina come colore a quella della lampada alle mie spalle la differenza ovviamente non è stratosferica ma è quel qualcosa che dà un tocco in più a tutta la scena e se ci fate caso questa cosa di dare un senso alle luci presenti nell'ambiente è una tecnica molto utilizzata anche nel cinema siamo quasi alla fine e ora quello che ci resta da fare è sistemare un po' l'illuminazione del resto della scena alle mie spalle per farle prendere un pochino più vita qui se non avete altro potete utilizzare delle altre lampade da tavolo da posizionare in giro nella scena oppure come nel mio caso usare strisce led o pannelli led da inserire in punti strategici dell'inquadratura ad esempio posso partire con una striscia led colorata alle mie spalle per illuminare il board della libreria poi posso andare a nascondere un pannello led dietro la pianta che vedete qui alla mia sinistra con un altro pannellino led posso andare a dare un tocco di luce agli obiettivi che ho appoggiati qui sulla mensola e poi dato che la parte superiore della pianta la vedo ancora un pochino troppo scura dato che ne ho un altro posso utilizzare un ulteriore pannellino led da agganciare alla mensola con una clamp e un braccetto magico per illuminare appunto dall'alto verso il basso la parte superiore della pianta questa volta con una luce fredda in modo da creare un pochino di stacco e dopo aver risistemato il piccolo pannellino che avevo nascosto dietro gli obiettivi sulla mensola perché mi creava un riflesso che non mi piaceva più di tanto ecco che siamo arrivati a questa fotografia che direi è molto molto meglio da quella da cui siamo partiti in realtà c'è ancora un'ultimissima cosa che possiamo fare ed è aggiungere una luce alle mie spalle per illuminare un pochino di più lo sfondo volendo mantenere il tutto pulito quello che posso fare è posizionare un altro tubo led we light k21 alle mie spalle puntato verso il muro ecco che con quel tocco di luce in più riesco a staccarmi ulteriormente rispetto allo sfondo per dare ancora di più profondità alla scena e questo va bene se appunto vogliamo un look pulito ma dato che questo tubo led è anche rgb vediamo cosa potrebbe cambiare impostando ad esempio un colore come il blu oppure il rosa andiamo su un rosso un verde oppure un azzurro ma direi che per l'estetica che stavo cercando la luce bianca è quella mia preferita e così ragazzi spero di avervi dato una panoramica di come andare a impostare la fotografia di una scena ricapitolando si parte intanto spegnendo tutte le luci chiudendo tutto in modo da avere una sorta di tela bianca su cui andare a lavorare poi prima cosa luce principale a cui aggiungere eventualmente una luce di separazione e a quel punto possiamo andare a inserire tutte le varie luci secondarie per colorare tra virgolette la scena per dare vita a tutta l'inquadratura detto questo ragazzi io spero davvero che questo video vi sia stato utile e se così fosse vi chiedo di supportarlo con un bel mi piace che è gratis e mi aiuta tantissimo con l'algoritmo di youtube iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi neanche un nuovo video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao